Sono bravo col beatbox Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Da come potete vedere voi non state vedendo il gioco Ancora Ancora no Quindi da come voi non potete vedere Sì è un po' contorto come pensiero ma è giusto Comunque perché non vedete il gioco? Perché volevamo giocare questo gioco In una modalità In una maniera differente Perché? Perché il gioco in questione è un'avventura grafica Più o meno Un po' vecchiotta Molto vecchia come gioco Molto vecchia L'esperienza del gioco insieme a voi Abbiamo deciso di mettere soltanto la nostra voce E soltanto il file audio della registrazione Di che gioco si tratta? Dragon's Liar Perché ogni volta che gli faccio dire i giochi a lui Hanno pronuncia veramente in testa Solo sui giochi Quindi sì Dragon's Liar Ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere Di iniziare subito Di iniziare questo giochino Ok ragazzi Eccoci qui su Dragon's Lair Incominciamo subito Modellità di gioco? Modellità a casa? Eh? Ma io direi inizio la partita e basta dai È difficoltà facile tra È meglio meglio Per giocare a Dragon's Lair dovrei farla Mossa corretta al momento giusto Allora ti dicevo io In questa scena Dirk Cadrà attraverso il punto elevatoio Che figata È un cartone animato Dovrei prendere Oh ok Spazio per far Dicuti la spada Oh È un cartone animato Bellissimo Complimenti Hai fatto la mostra giusta Grazie Perché siamo soli Durante il gioco dovrei eseguire le mosse Su giù Sinistra destra e spada Per sovrappire Buona fortuna Quindi niente mouse È solo freccette e spazio Ok io faccio le freccettine E tu E io spazio Va bene dai Cos'è il tempo quello? Sì vedi tipo Forse quanto tempo Riusciamo a sopravvivere Oh che figo Qua sta attento Vabbè ora cade Oh cacchio Ce l'ho fatta? Quindi lui ti dice Quando usare la spada Cioè No di là No di là Di là Hai sbagliato scelta Cazzo Piovo le vite Talè Ah quindi ti comincia da capo Eh sì Ah Interessante E lo finiremo mai questo gioco? Spero di sì Grazie Grazie Eh grazie a cazzo Un tasto a pelle Eh mi spunta pure la spada Quando prendo Quindi figure A destra no? Ah ti spunta A te la precetta Quindi bisogna stare attenti Che cosa dobbiamo fare? C***o Che dovevo fare? Ma andrà a sinistra Se non la sei Non è urla Dai che ti comincia da qua Che fortuna No hai sbagliato momento Deve aspettare che spunti la freccia Ma sono i punti i malelli Ora Ora Dai Sì Che c***o è successo? Dai Attento ai lati del bo Qua Dello schermo Perfetto Drink me No Oh Non si deve bere? No Perché? E c'è la freccia Ok Su Su Vada No Eh che c***o Abbiamo sbloccato la c***a No Ragazzi siamo troppo morti Continuar Continuar Ma perché è spagnolo? Non lo so Fine partita Continuar Vediamo dove ci fa partire da capo No no da qua da qua Su 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 Grandissimo Che coordinazione di movimenti Guarda E non parla C'è di che cosa parla sto c***o animato? Di lui che entra nel castello? Giù giù Scusa sbagliato Un po' tardi Dove ci fa ripartire? Tadadà Giù giù Attento È divertentissimo Perché è sempre io? È divertentissimo comunque Ma finché è sempre giù Beh no male è facile Su Madonna No ho sbagliato Ho prontato pure la sinistra Per sbaglio Sega Di nuovo da capo Ma questo castello è tipo un castello incantato Penso di sì Pieno di scheletri e palle Mi raccomando attento Diflessi pronti Oh No Dai l'ho premuto No Forse è spuntato due volte Attento Ora Ah Non è semplice È Da sbrigarsi velocemente Mi raccomando M***a precisione Grande Saccate Giù Ti prego dimmi che l'hai fatto Su Bellissimo La principessa Princess Princess Attento Mai distrarsi M***a tornado Destra Bravissimo Ci voglio credere Ci voglio credere Ma l'abbiamo premuto No Comunque quello che ho notato è che noi non scegliamo È lui che ci aiuta Ci dice cosa fare Certo Certo No forse è sempre così C'è una questione di riflessi Certo Che hai fatto? No Ho premuto per lo spazio Oh raga È assolutamente un tasto da premere Dai Non sbaglio più No No c***o Ho premuto spada L'avevo premuto io so Dai infarto Dai 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 Stavolta Stavolta Attento Oddio Dai è sparita la porta Si è Grandissimo Madonna Una grande Ma di distrarsi Mai Stavo premendo spazio Dai È una sorta di labirinto Bravissimo Su Spada Spada No Più o meno Ce l'ho fatta Ho premuto spazio Ce l'ho fatta No Ce l'ha mangiata Ragazzi ci stiamo diventando un casino Attento Attento Salta Salta Bravo Spada C***o di strellaccio Bene Testata Attento Perché Ma no Il sottomenon Quasi scordato Non esiste più Oh Quasi scavazzati Attento Salute Attento No No È molto Lo chissimo Ma dai Ma è impossibile Continuar 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 Ma perché è spagnolo il menù? Non lo so Per renderlo più internazionale Attento Ora Cosa? Non andò troppo presto Ora No Troppo presto Sì C***o Ops Quanto con le peralacce Su C***o Disse colui Ah ci voleva Di nuovo Ho sbagliato Ma che ci facciamo di nuovo nella stessa stanza? Qual è la stessa stanza? Molto simile Che vuol dire? Eh vabbè Dai Sai come Vedi sto sto rumore Dai dai Eh Tarzan Dai Attento Ma dai È troppo tardi Ok ci siamo Dai Deve essere una volta buona questa Non può bruciarsi sempre Vai 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 L'ultimo L'ultimo Ok c'è È un po' che non premo spazio Quindi è meglio che sto attento Perché ora mi spunta di continuo Secondo me Che cos'è? Madonna Nunca non vorrei essere nei tuoi panni Aglio Aglio Figlia Aglio Che culo Che culo Veramente No dentro un barile di vino Che dobbiamo fare? Stai fermo Stai fermo Non dobbiamo fare niente Dai di sinistra Dai con i riflessi Aranciata No Non è rapida Stai attento Cazzo Stai attento Spiaccicata al muro No Ah Qua siamo dai Sembrava che il cavallo volante Your build Dai E fino a qui Facile Quando spuntava aranciata È un po' più difficile Non è che era difficile È che spuntò Tipo dritto Sì Il tasto su Ingannava Ingannava Dopo 30 volte Sinistra e destra Ora Quattro volte sopra Quindi stai attento Devi sempre guardare i lati del gioco Perché io non l'avevo visto per niente E ce la fai il nostro Ti prego No ho sbagliato Oh Eccolo Coca Sinistra Damma mia Oddio 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 No Ah Gli ha rotto una caviglia Tempismo Ok Oh io non attacco da un zanno Oh no Troppo veloce Cioè Non te ne sei dato quanto Era Subito Ha fatto tipo un flash Ragazzi Sì Abbiamo sentato così Questa puntata può finire qui Anche perché non vogliamo finire il gioco così Non sapendo quanto dura È inutile continuare troppo a lungo Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Ricordate di mettere un pollicino in su Di commentare Di condividere E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao